La misura arriva in un anno difficile e replica quanto già fatto in passato, sostenere le famiglie in difficoltà erogando un bonus, grazie al Fondo Sociale Europeo che va incontro a chi deve acudire persone non autosufficienti o minori fino ai 14 anni. È una misura importante in questo momento, in questo momento in cui permane l'emergenza e in cui permane anche la difficoltà economica delle famiglie. È un momento in cui è importante poter avere la garanzia di un'assistenza a casa, sicuramente per le persone non autosufficienti, in questo caso possono essere anziani, possono essere disabili, così come la cura anche per i minorenni che in questo caso può garantire chiaramente una conciliazione vita-lavoro per le famiglie. Agli oltre 5 milioni di euro erogati avranno accesso le famiglie con un ISEE fino a 35.000 euro. Le domande possono essere presentate a partire dal lunedì 15 marzo fino al 30 settembre attraverso il sito di Filse www.filse.it